I gruppi consigliari del Partito Democratico e Massa è un'altra cosa annunciano un percorso mirato a dare continuità agli obiettivi prefissati durante la campagna elettorale, ascoltare i cittadini ed essere presenti soprattutto nei paesi collinari e montani e nelle periferie. L'occasione per la presentazione di questo progetto, chiamato PD on the road, è stata la conferenza municipio sulla situazione delle frazioni montane, voluta e presidiata dal segretario PD Enzo Romolo Ricci e dai consiglieri Stefano Alberti, Giovanna Santi, Daniele Tarantino e Ivo Giaccagna. Riportare al centro i bisogni, andare nei luoghi dove ci sono le problematiche e non aspettare che queste poi in qualche modo ti possano raggiungere per altre vie. Quindi saremo noi che andremo a intercettare nei territori tutti i bisogni che le popolazioni, specialmente nelle nostre aree di periferia e soprattutto, e noi cominceremo là, nei paesi a monte, ci sono. E noi vorremmo portare la nostra azione politica anche all'interno di atti amministrativi con proposte da portare in Consiglio Comunale e al governo di questa città. Durante l'incontro si è aperta anche la possibilità di attivare microeconomie per favorire attività in loco e avviare servizi di base tra cui banda larga, trasporto pubblico urbano e sicurezza stradale, che aiuterebbero ad evitare lo spopolamento e l'abbandono della montagna. Grazie a tutti.